In promozione la grande sorpresa della giornata arriva da Palma di Montechiaro, dove la locale Gattopardo è riuscita a superare del testa a coda la Folcore con il più classico di risultati e cambia letteralmente la vetta della classifica. Torna alla vittoria all'empedoclina di Angelo Mercante grazie alle reti di Donato, Curabba ed Abate. L'unità si sciacca se giudica il derby con Camarate grazie alla doppietta di Cortese e all'autogol di Musa. Anche il Castel Termini continua a mettere vittorie importanti e battendo il San Vito Locapo si posiziona in seconda posizione. In prima categoria continua il magico momento per Gemini ed Atletico Favara, che vincono entrambe rispettivamente con il Raffadale per 2-0 e il Villarosa grazie ad una rete di Fanara. Il derby Ravannusa Libertars si lo giudica alla seconda con il risultato di 0-2. In classifica generale guida sempre l'Atletico Gorgonia con 18 punti, in seguita ruota dalla coppia grigiendina Gemini-Atletico Favara. Con la sconvita di questo turno il Raffadale esce momentaneamente dalla zona play-off. Infine in seconda categoria Gironee. Bella vittoria dall'Atletico Mondallegro, che supera l'Acqua Viva e si posiziona nelle zone alte della classifica, alle spalle del capolista Eraclea Minoa, anch'esso vingitore sul campo delle Marianopoli. Anche l'Alessandria della Rocca esce vittorioso superando tra le Muramiche Riese. Perdono invece sia il Muxar sul campo di Delia con la Nuova Petuliana, che l'Atletico Licata con il Vallelunga. Perdono invece sia il Muxar.